Musica Mercoledì 27 settembre, buonasera a voi tutti e ben ritrovati dall'informazione di Vercelli Web TV. Come da consuetudine annuale il comune di Casale in collaborazione con i comuni del circondario di Monferrato e Lomellina organizza per sabato prossimo 30 settembre e domenica 1 ottobre un po' di sesia, una esercitazione di protezione civile a livello interregionale in vista del periodo autunnale della possibilità di maltempo. Il tema specifico di questa simulazione sarà utile per allenare i volontari all'uso delle strumentazioni in dotazione e nel caso di evento di tipo alluvionale. Per non creare allarmismi nella popolazione tutti i mezzi impiegati avranno apposto un cartello con la dicitura esercitazione di protezione civile. Voltiamo pagina con l'autunno, tornano alla Museo Borgogna di Vercelli gli attesi appuntamenti dell'arte si fa sentire che accompagneranno i visitatori fino al prossimo dicembre. La prima novità sarà la mostra Vercelli scatti nel tempo, la città fotografata da Andrea Tarchetti tra 8 e 900 che comincerà il 10 ottobre prossimo. Prima dell'intervista ricordiamo che tutte le iniziative dell'autunno al Museo Borgogna di Vercelli sono state realizzate grazie anche al contributo della Fondazione della Compagnia San Paolo di Torino. Come sarà l'autunno al Museo Borgogna? Deve essere splendido, con questa mostra che noi esporremo e presenteremo dovrà essere splendido, ce l'auguriamo. Una grossa mostra in quanto che partendo dal fondo fotografico di Francesco Tarchetti parte perché è grandissimo quindi è una certa selezione che si riguarda Vercelli, il centro di Vercelli, la periferia di Vercelli, ci sarebbero tante altre cose. Nei dintorni ecco noi presentiamo, valorizziamo dopo un grosso lavoro di restauro anche perché sono tutte cose delicatissime, in modo che noi presenteremo quella che era, fu diciamo la vecchia Vercelli di oltre un secolo fa. Però nello stesso tempo è stata nostra intenzione e ci siamo a base anche del fotografo nostro qui che è Davide Bella perché faremo un confronto, un confronto, lo stesso punto come era Vercelli sulle fotografie di Tarchetti e com'è invece adesso. Le volverse, tutto questo, il vecchio trenino che andava si fermava, oppure andare a spasso per Vercelli, vedere sempre questo. E tutto questo deve essere di studio ma anche di incentivo perché incentivo in quanto deve essere non statico ma bisogna guardare al futuro. È in fase di formazione la nuova consulta dello sport di Santià. Si tratta di un organo che ha l'obiettivo primario di promuovere la formazione di un coordinamento permanente di rappresentanza dei gruppi e delle associazioni sportive. Tra i compiti della consulta dello sport quello di operare in sinergia per la programmazione integrata delle attività e per la elaborazione di nuovi progetti e di gestione degli spazi adibiti ad attività sportiva. La consulta è composta dal sindaco Angelo Cappuccio, dal consigliere Gabriele Posillipo, da Elisa Carla Montanari, pediatra dell'ASL di Vercelli, da Maria Luisa Petitti dell'Istituto Comprensivo Sant'Ignazio di Santià, dal professor Nicoletto Rosso dell'ITIS di Santià, dal maestro di karate Icaro Monti in rappresentanza delle associazioni sportive e da Laura Musazzo per il CONI di Vercelli. Rendere operativa e presto la legge conosciuta come legge dopo di noi, creata per poter garantire un'assistenza ed una tutela ai figli disabili dopo la scomparsa dei genitori o delle famiglie che li accudiscono per tutta la vita. Questa legge dovrebbe dare questa sobrietà alle famiglie, vedere un futuro più roseo per i propri figli, soprattutto quelli gravi e gravissimi. E dare appunto la possibilità ai ragazzi di vivere, come diceva la professoressa Bassignano, magari anche nella propria abitazione, con altri compagni, con altri ragazzi disabili come lui o come lei. Ecco, questa è una legge molto buona, criticabile, con alcuni punti critici, ma buona, che come Anfasi aspettavamo da anni e che dovrà essere applicata. Noi speriamo che l'amministrazione competente, quindi primis il ministero, che ha già fatto la sua parte, la Regione e l'AS applicano questa legge, perché senza di loro questa legge non potrà mai essere applicata. In tempi rapidi? In tempi rapidi, naturalmente, visto che ci sono già stanziati i fondi per il 2016, già passato. Abbiamo il 2017 e il 2018, quindi nel giro speriamo di pochi mesi, speriamo, possa essere applicata. Siamo alla pagina sportiva, ci fermiamo un istante per la pubblicità. Un allenatore di categoria superiore, stiamo parlando di Ezio Rossi, mister del casale calcio nel campionato di Serie D. Abbiamo incontrato il direttore generale dei Nerostellati, che così ci presenta il mister e la squadra. Questo casale che ha avuto una partenza un po' altralenante nei risultati, come mai? Diciamo che anche l'anno scorso questa situazione di risultati si era creata un po' per il tipo di preparazione che fa Rossi, molto dura, e un po' magari anche per circostanze che nel calcio esistono, come secondo me sia a Borgoro che a Voghera, il risultato è un po' bugiardo. Un allenatore di gridoni, un allenatore importante che conosce il calcio per il casale, quindi ambizioso? Il mister è un allenatore che ha un'esperienza incredibile, da cui tutti noi abbiamo da apprendere. Io personalmente ho imparato molto da lui e ha scelto Casale perché è una piazza comunque famosa e ambiziosa e perché gli ha dato la possibilità di lavorare in un certo modo, che magari in altre piazze anche più grandi delle nostre questa opportunità non l'ha avuta, col carattere che a lui magari ha scelto anche una Serie D per lavorare in un certo modo. Quindi è un prestigio sia per lui, perché comunque allena il casale, sia per il casale averezze e rossi. Non ci siamo ancora, parola del mister del Cesena, atteso sabato dal Piola dalla Provercelli per la settima di campionato di Serie B. Quindi non è tanto il modulo, è come viene interpretata la partita, che non ci siamo ancora. Quindi dobbiamo lavorare tanto e ci rinvochiamo le maniche, sappiamo che non possiamo essere questi e andiamo avanti. Molto bene, il nostro giornale termina qui. Vi ringraziamo per averci seguito. Appuntamento domani alle ore 19. Grazie e buona serata. Grazie a tutti.